ciao a tutti amici di security info benvenuti a questo nuovo appuntamento last week security enterprise anche oggi siamo qui con massimo carlotti di cyber ciao massimo ciao giancarlo buongiorno a tutti oggi partiamo subito con tre temi molto interessanti di cui due collegati ma prima partiamo con quello solitario cosa è successo di bello su npm massimo beh di bello diciamo che la notizia è a un lieto fine cominciamo con questa premessa in buona sostanza piccolo antefatto npm per chi non dovesse conoscere è un repository di codice tendenzialmente javascript ormai di proprietà di github sul quale molti sviluppatori depositano codice nello specifico per uno di questi javascript i responsabili della security di npm si sono accorti che qualcosa di strano stava succedendo esatto questa faccenda del dei repository per codice open source sta diventando un tema sempre più importante perché perché sono il watering hole perfetto un sacco di gente converge su questi siti per attingere appunto le risorse e inserirle nel proprio codice e se un malintenzionato riesce a compromettere un pezzetto di codice di sopra ha improvvisamente un impatto pazzesco su un sacco di macchine perché si trova con nel malware pronto in una serie di programmi che lui neanche visto neanche ha toccato giusto corretto diciamo che è il principio di inquinare la fonte e di conseguenza contaminare tutta la filiera quindi in questa metafora ovviamente visto che una volta acquisito il codice la libreria una volta che è stata integrata con il proprio software la si dà implicitamente per trusted per affidabile beh è evidente che a quel punto diventa molto più difficile intercettare e intervenire su quello che è il problema vero e proprio stavolta però è andata bene come avevi anticipato esattamente ricercatori di npm i responsabili della security si sono accorti che qualcosa di strano stava succedendo e che quindi in particolare per alcuni di questi javascript si è rilevato un tentativo di accesso ai file level db che vengono usati da diversi browser e questo tentativo è stato intercettato e stroncato per dare un ulteriore chiarimento i file level db sono quelli che nei browser servono a raccogliere alcune informazioni su quello che gli utenti usano a livello di sistemi di hardware quindi se vogliamo non è ancora un'intrusione in senso stretto non è ancora un'operazione di violazione vera e propria però è molto probabile che sia la classica operazione di ricognizione prima di poter perpetuare un attacco esatto ricordiamoci tra l'altro che come è uscito un mio articolo proprio in questi giorni sul sole 24 ore per la cronaca che il lacking nei videogiochi sta diventando una cosa molto importante infatti il bersaglio di questa operazione era proprio una libreria utilizzata nei videogiochi a quanto pare c'è un giro d'affari che si avvicina al miliardo di dollari all'anno che riguarda il furto degli account ovvero sia gli hacker i pirati rubano degli account e li rivendono a chi ha bisogno di skin piuttosto che di account già sviluppati e così via questo genera un giro d'affari di quasi un miliardo di dollari all'anno e questa sembra proprio un'operazione inserita in questo contesto ossia una un prospect cioè una ricognizione su quali siano i giochi più utilizzati per capire anche i trend e vedere se effettivamente si riesce a inserirsi in qualche circuito per poi rubare grandi quantità di account tutti in una volta molto bella questa cosa devo dire che le notizie nascondono sempre un sottobosco molto molto più fitto di quanto non si possa immaginare e questa cosa è ancora più vera per le altre notizie stiamo andando ad analizzare oggi oggi parliamo di cinesi vero massimo sì o meglio diciamo che parliamo della rilevazione che è stata fatta da proof point di un'azione tramite sepulcher che è un trojan che è stato usato abbastanza assiduamente in questo recente passato e in particolare c'è un ragionamento legato al fatto che sono state fatte ulteriori campagne per quanto riguarda il gruppo ta 413 che sembra essere un'unità di attaccanti completamente a disposizione del governo cinese esatto completamente a disposizione del governo cinese è completamente dedicata di solito al problema tibet perché ricordiamo che per la cina il tibet è un bel problema un'area che sta cercando di rivendicare la sua indipendenza la cina ovviamente non lo mollerà mai e c'è appunto attivo questo gruppo apt ta 413 che lavora quasi esclusivamente su questo tema la cosa curiosa è che in occasione del dell'esposizione del covid hanno sfruttato questo caso particolare per fare anche loro una ricognizione in europa cosa è successo massimo ecco questo se vogliamo l'elemento è la discrepanza è quello che ha sollevato un po d'attenzione su questa situazione in particolare come si diceva il gruppo cinese normalmente lavora nell'ambito tibet sfruttare l'occasione copi per fare social engineering e quindi attacchi che poi vogliono andare a finalizzare installare come sappiamo di sepulcro un trojan di tipo remote access remote access tool quindi una serie di tool che permettono di effettuare attività remote sui sistemi bersagli sui sistemi colpiti beh ha sfruttato quest'occasione per cercare di espandersi e probabilmente presumibilmente cominciare ad andare a toccare quella che è diciamo le l'insieme di simpatizzanti o le macchine simpatizzanti organizzazioni simpatizzanti nei confronti di quella che è la causa tibetana quindi il covid cercare di mantenere l'obiettivo iniziale però espandersi come territorialità esattamente nel senso che loro di solito appunto si sono occupati in senso stretto del problema tibet stavolta hanno sconfinato in europa e molti ricercatori hanno drizzato le orecchie ad alcuni però ha sfuggito che in realtà stavano continuando a fare esattamente la stessa cosa perché probabilmente stavano dall'oggetto dell'email utilizzata per diffondere questo rat appare chiaro proprio che stavano cercando gente collegata alle sommosse in tibet probabilmente intendono incrociare i dati tra quelli che hanno raccolto in tibet e quelli che hanno raccolto adesso in europa per capire quali possono essere le connessioni all'estero di supporto ai ribelli tibetani questa cosa è preoccupante sì ma è anche abbastanza normale perché sappiamo benissimo che la cina è molto molto ben organizzata ha dei piani molto chiari si muove su schemi molto molto rigidi la cina è un avversario molto temibile ed estremamente organizzato non cascate mai nella trappola di pensare che abbiano fatto qualcosa giusto per provare i russi lo fanno secondo me i russi ogni tanto fanno qualcosa solo per provare o solo per dimostrare che sono in grado di fare delle cose sono un po più tamarri se vogliamo ma i cinesi invece sono estremamente pragmatici quindi quando fanno qualcosa c'è sempre qualcosa di molto ben strutturato dietro la stessa cosa non si può dire per quello che riguarda gli iraniali giusto massimo sì o meglio diciamo che il confronto con quest'altra notizia che combinazione cronaca vuole si sono verificate in giorni in giorni vicini da un'idea diversa di come si muovono questi gruppi attaccanti e in questo caso specifico un gruppo che viene definito ahimè pessima scelta di nomi pioneer kitten quindi non si capisce perché un gattino pioniera dovrebbe fare paura beh si riferisce a un gruppo di attaccanti che sembrano essere fondamentalmente dei contractor che lavorano e collaborano in modo molto stretto e molto fitto con il governo iraniano esatto già qui c'è una differenza importante ovvero abbiamo a che fare con un gruppo di contractor cioè di gente esterna che lavora anche per il governo iraniano contro la cina che invece accentra moltissimo queste operazioni noi non abbiamo al momento notizia di alcun gruppo che lavori per conto del governo cinese se abbiamo notizia solo di gente che lavora direttamente nel governo cinese e cos'è che hanno fatto questi di pioneer kitten beh in questo caso si tratta di una campagna d'attacchi a danno di alcune diverse tecnologie di vpn come avevamo commentato alcuni beh ormai credo mesi fa nello sfruttare queste vulnerabilità che erano state pubblicate e in molti casi lo ricordiamo non peciate ahimè questo un altro fil rouge che lega quasi tutte le nostre interviste ebbene hanno rastrellato un po di credenziali che possono ovviamente tornare utili perché stiamo parlando comunque sistemi vpn di caratura enterprise quindi parliamo di potenziali bersagli importanti c'è questo questo sottolinea un dettaglio importante cioè noi abbiamo un gruppo che lavora anche per il governo iraniano e lo cosa fa va a strascico a recuperare dati poi va a esporre dati che ha trovato al governo iraniano il governo iraniano dice mi interessano questo 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 e che cosa fanno con quelli che non sono stati scelti dal governo iraniano e beh la cosa più ovvia li vogliono monetizzare quindi li rendono sul mercato esatto questo vuol dire che nessuno è al sicuro come dicevamo al solito non ci sono dei criteri veri dietro molti attacchi ok sebbene quelli cinesi ci siano ci sono tantissimi gruppi che invece non utilizzano dei criteri per il primo attacco loro vanno a strascico ovunque possano colpire colpiscono e poi cercano di monetizzare a seconda di che consigli sono ritrovati per le mani sì diciamo che spesso poi si pensa all'informatica come un mondo abbastanza se stante io ricorderei il fatto che in quello che stiamo commentando le strategie dei governi gruppi d'attacco i contractor o i gruppi interni le polsi di gestione le regole di ingaggio e vedi scorrendo piuttosto che addirittura nel mondo della natura diciamo nei sistemi biologici parliamo in questo caso di differenze tra predatori organizzati e predatori opportunisti il che non vuol dire che poi non cerchino di massimizzare lo risultato anche da questo punto di vista è sempre bene ricordare che non bisogna mai dare per scontato che quello che vediamo sia il tutto di quello che potrebbe avvenire sotto la superficie un po' l'iceberg insomma al via delle frasi un po' ovvie però veramente ricordiamoci che quello che vediamo è molto probabilmente solo una piccola parte di tutta l'azione che viene fatta dietro soprattutto quando ci sono dei governi dietro e soprattutto quando ci sono dei governi molto organizzati dietro come quello cinese c'è un altro aspetto interessante che magari avremo modo di approfondire una sessione separata però il fatto che quando si pensa a questa continuazione di cercare di recuperare denaro o comunque questo gruppo che cerca di monetizzare tutto quello che avanza dalle informazioni che effettivamente è riuscita a vendere al governo iraniano piuttosto che un'altra organizzazione beh non è che questa gente vuole fare soldi solo per il gusto di farli sicuramente c'è l'interesse economico puro ma ricordiamoci anche che queste attività costano molti soldi costano risorse costano competenze la formazione per acquisire le competenze e quindi non è banale a modo loro è a tutti gli effetti un'associazione un'organizzazione strutturata che ha le risorse di mantenere le loro persone di mantenersene affidabili e strette il che vuol dire che devono essere pagate bene per essere fidelizzate non possono essere solo minacciate o lavorare solo con il pericolo della pistola puntata in testa quindi ricordiamoci che in realtà parliamo di un sistema economico parallelo ma paragonabile come complessità al sistema economico che più o meno conosciamo e viviamo tutti come cittadini esatto sono delle aziende del crimine molto ben strutturate e completamente operative su un vero e proprio mercato quindi hanno le loro regole da seguire va bene massimo io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata di oggi e ti do appuntamento settimana prossima grazie a voi e grazie a tutti buona giornata e settimana